Il 1, 2, 3 dicembre ripeteremo l'evento, non parliamo di convegni, a Bari. Avevo ben 80 foglie da darvi voi per invitarvi e non so dove siano, probabilmente li ho lasciati a Torino. Che grande pubblicità, vero? Però se andate sul sito di animazione sociale trovate tutto. Detto questo, il mio osservatorio non è il gruppo Abele in questo momento, dove lavoro da ormai 27 anni. Il mio osservatorio è quello che faccio tutte le mattine, due ore di viaggio in autobus. Il 49 o il 27 o il 57, quando mi stufo, cambio. In andate ritorno alla stazione di Porta Susa, io abito in periferia andando, diciamo, verso Milano. Al mattino, dalle sette e mezzo, anzi meglio è un po' più tardi, alle otto, salgo e incontro i cittadini normali. E incontro soprattutto molte donne che vanno a fare le pulizie italiane, di altre culture. E devo dire che sono sempre molto incuriosito da quello che dicono. Alla sera faccio un viaggio diverso. Sullo stesso tram, autobus, cambiando direzione, mi ritrovo con decine, decine, decine di ragazzi armadi, di colore, di donne con tre, quattro bambini, carrozzine che spingono di tutti i tipi, con persone completamente velate, con ragazzine A di origine turisina che si siedono in braccio a un ragazzino di 16 anni. Ho detto, Dio, qui il cambiamento culturale è avvenuto. Ok? E mi trovo in questa situazione. Perché dico questo? Perché condivido molto quel che diceva prima l'amico di Fabriano. Bisogna che facciamo la pace con la gente nostra qui. Perché io sono vecchio ormai, non lo nego, ma non penso che i tempi passati siano peggiori e migliori di oggi. Ogni epoca ha le sue rogne. E chi si siede in mente qua da quel passato, vuol dire che non ricorda più a problemi di Alzheimer. Perché il passato è sempre stato doloroso. Non auguro ai miei figli la guerra mondiale. Neanche altra epoca precedente. Quella in cui le donne, o meglio, il compagno delle donne lo sceglieva, andatevi a vedere l'albero degli zoccoli, lo sceglieva qui, il parroco assieme al nonno. Neanche il padre e la madre della sposa. Questi erano i tempi. E le donne dicono, volete tornare lì? Quando far l'amore si diceva così, vieni qui che ti uso. In tutti i dialetti del nord Italia, ormai l'ho verificato. Dico, volete tornare lì? Allora, spero di non essere un passatista. Spero di non essere un modernista. Per dire che cosa dico questo? Perché sono convinto che la gente sta soffrendo e che bisogna assolutamente avvicinarsi alla gente. Alle signore della pulizia, ai ragazzi immigrati e alle donne con i bambini che spingono carrozzine mezzo al caos del 49 alle 6 del pomeriggio. io ho imparato tantissimo viaggiando sull'autobus e ho incominciato a condividere la sofferenza della gente, ma anche un'altra cosa, dalla parte dell'incazzatura che ha. Le castronerie che non dice. Quando un giorno ho fatto, ho guardato una persona, leggevo un libro, diceva delle robe terribili, ho provato a cercare lo sguardo e mi ha detto, ma lei è un politico? No, 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 ho detto, no, leggo un libro, ho detto. E basta. Ci siamo dove... Allora, però questo va capito. Questa aver, cosa diceva? Fare la pace. Fare la pace vuol dire che non è che noi abbiamo ragione e loro hanno torto, che siamo tutti immersi dentro problemi molto grossi, molto gravi. Ma non è da vecchio data, è la colpa, parliamoci chiaro, non è delle persone che sono immigrate nel nostro paese. avremmo molti degli stessi problemi anche se gli immigrati non ci fossero. Lo accennavate voi, i disequilibri economici mondiali, la pluralità delle culture, lo spezzarsi di antichi legami, è una società in fibrillazione, ma, viva Dio, è anche una società molto interessante, forse più interessante che altre epoche. con un problema. Tanti anni fa, a proposito, io leggevo il vostro grande capo, per merito del mio docente all'Università Roma, l'anno 69-70, quando voi non avevate ancora, mi lessi i suoi libri sulla non violenza, di Capitini, e ne rimasi assolutamente incantato. Però poi non ho seguito quel filone. Allora, uno studioso più recente, ormai 30 anni, però, vedete che sono vecchio, di nome Alberto Melucci, il sociologo italiano più stimato da Bauman, diceva, signori miei, guardate che la forbice tra ricchi e poveri si sta aprendo, lo diceva 30 anni fa, cosa direbbe oggi, ma c'è un'altra forbice che si sta aprendo, tra quelli che ce la stanno facendo a capire e che non ce la sta più facendo a capire, in che diavolo di mondo stiamo vivendo. Per cui la gente è ormai, oggi più di allora, talmente in ansia, preoccupata, tesa, posso dirlo incazzata per le cose che succedono, che l'ansia gli brucia loro la possibilità di pensare con calma. E a questo punto arrivano tutti i luoghi comuni del mondo, tutti dei rigurgiti, i rigurgiti di pancia, dicevate voi prima, che in qualche modo li stanno stravolgendo. questo sta vivendo la gente, i rigurgiti di un'ansia che inibisce il pensiero, la conversazione, la parola, il ragionamento, è presa da pensieri emotivi, è presa da... e non ci sono luoghi dove tutto questo si possa ricomporre. Questo è il dramma. Qualche anno fa, quando intervistavo, intervistai o intervistavo, non ricordo, ma no, io l'intervistai, e quel grande psichiatra di Milano, non ricordo più il nome, di modo che gli diceva, qualche anno fa da me arrivavano la gente e facevo la terapia. Adesso la gente arriva e mi chiede quante sedute? La gente ha perso, dice, l'uso della parola. E quello che mi preoccupa, diceva, è l'inaccidimento delle vecchiette e la colpa è delle parrocchie. Perché non c'era più un luogo dove poter rimasticare, rielaborare le fatiche e le sofferenze. Allora, la solitudine della gente è il problema, la fatica di pensare, ma non possiamo pensare che la gente ce la possa sapere, fare, senza ritrovare il noi. Parliamoci chiaro, non ho un'idea idealista del noi, sarò brutale. Non sogno l'epoca del noi all'albero degli zoccoli. Vi ricordate il cinema dove il soggetto non esisteva, l'io non esisteva. Poi, grazie a Dio, grazie alle donne, abbiamo conquistato la soggettività, l'io, abbiamo anche esasperato rotto freni e a sto punto ci ritroviamo con che cosa? Che l'io non ci basta e non è sufficiente perché non abbiamo il luogo dove l'io possono incubare, essere incubati e che dunque abbiamo di nuovo bisogno del noi. Questa fase storica è di ricerca di altre forme del noi entro in cui l'io possa nascere. Ma se non offriamo alla gente la possibilità di viversi dentro dei noi, non ci sarà mai l'autonomia, il pensiero, la capacità di elaborare quello che stiamo vivendo. Allora, città del noi vuol dire non siamo tutti buoni o che bella la... No, no, vuol dire, come vedremmo, costruire dei luoghi dove si possa sperimentare la noità. È una parolaccia mia, tutta mia. Alla luce di alcune cose, quali? La prima è ogni sofferenza, non lo dico io, lo dice Saraceno, il grande psichiatra, ogni sofferenza è sempre urbana. te la procura la città. Ma ogni cura, ogni lenimento della sofferenza è sempre urbana. Ti aiutano gli altri a curarti. Ok? Questo non vuol dire che non ci siamo problemi. Seconda affermazione. Città è quel minimo denominatore comune tra diversità. l'idea del noi non può essere quello in cui siamo noi coeso, una cosa unica, fusionale, come molti. Quelle sono le sette. Noi non vogliamo le sette in cui noi è fuso. Vogliamo dei noi che saranno costruiti le città da denominatori comuni tra mondi assolutamente diversi, tra maschio e femmina anzitutto, anzitutto tra maschio e femmina. E su questo bisogna ragionare a lungo perché la violenza, lo vediamo, nasce molto lì. Tra popoli, tra chi lavora e chi non lavora, tra chi ha studiato o non ha studiato, tra genitori e figli. dove non è vero che abbiamo, chissà, abbiamo delle diversità ma abbiamo tanti interrogativi in comune. Il noi è il luogo dove gli interrogativi della vita possono essere finalmente trattati e messi in comune. Ma non perché ne usciamo con un'unica versione del noi, ma perché ognuno trova variazioni del noi che però si combinano con la possibilità di stare insieme ad altri. questa è la grande impresa. Terzo, la democrazia è la forma meno dolorosa di governo dei problemi. In ogni caso, nelle comunità per minori, nelle scuole, nei comuni, il deficit che abbiamo non è di soldi, è che non sappiamo come vivere la democrazia. Il deficit è di democrazia. in un tempo in cui nessuno può dire dall'alto, lo diceva giustamente il sindaco, ma chi può comandare oggi dall'alto? Chi, chi, gli spartiti del direttore di orchestra non ci sono più, come non ci sono neanche le musiche da suonare in un quartetto eccetera o così dentro in musica da camera in cui ci si mette d'accordo tra gli attori. si è diventato tutto più complicato, ma la democrazia e i processi democratici sono la via del noi. Sono la via del noi, quello in cui ognuno può sentire di essere se stesso e avere potere. Ultimo, considerazione preliminare, lo dicevate voi, ma lo voglio richiamare quando il sindaco stesso parlava dei servizi. Noi siamo usciti, noi europei, da 56, voi non avete colpa, da 56 milioni di morti, 56 milioni di morti. In Russia non sappiamo cosa è successo nel frammento. a partire da quei 56 milioni di morti della seconda guerra mondiale ci siamo inventati welfare, ci siamo dotati di servizi perché abbiamo capito i nostri genitori che se si abbandona qualcuno alla sua solitudine si rigenera la violenza perché la guerra è la violenza fatta carne. Welfare è il più grande meccanismo e lo sappiamo di contrasto della guerra che l'Europa ha sperimentato in tutti questi anni. Poi ci sono mille cose che si potrebbero dire sul welfare ma è che abbiamo deciso di istituire servizi pubblici organismi pubblici istituzioni prossime alla gente come i comuni come luogo in cui finalmente la gente può sperimentare il senso di non essere abbandonato dunque di sentirsi dentro un noi se non si passa da queste cose secondo me facciamo del moralismo del noi ovviamente abbiamo detto la gente sta soffrendo molto che farne di questa sofferenza prima considerazione però solo al secondo prima considerazione è sono figlio di nipotino di Paolo Freire e Freire dice che in ogni epoca dentro le contraddizioni di quel tempo non di quello precedente dentro contraddizioni che la generazione precedente lascia quella che avviene dopo dentro quelle contraddizioni ogni generazione può scoprire intuire costruire dei temi generatori di futuro quel che ci manca è avvicinare posso dire entrare nella pancia delle comunità locali territoriali salire sugli autobus frequentare le scuole per capire quali intuizioni generatrici la gente sta coltivando quello che ci manca è la curiosità profonda che permette a noi di sintonizzarsi posso dirlo con l'idea con la ricerca che la gente sta facendo di un qualche futuro di un qualche vivere altrimenti ma non domani dopo domani o chissà dove qui e ora in mezzo alle contraddizioni in cui stiamo sappiamo benissimo che in questo sistema economico noi ci dobbiamo vivere comunque lo chiamino ma si tratta di intuizioni che ci permettono di sopravvivere di guardare al futuro e di costruircelo qui un pochino in maniera sensata praticabile allora o noi avviciniamo il nostro popolo la nostra gente con l'idea che la gente sta cercando da che parte andare e che ha delle intuizioni sul dove andare e che non è vero che dobbiamo a quel punto lì dire vabbè tanto la gente è contro di noi adesso ascoltiamo solo i buoni no noi se vogliamo la città del noi dobbiamo camminare con tutto con tutti ritrovare sto legame con le popolazioni locali che è faticoso ma a partire da queste intuizioni e lo stesso anche i giovani è inutile dire ai giovani sì per carità e media non media ok ma io a casa o avvicino mio figlio i miei figli con fatica come ricercatori di mondi altri di un vivere diverso e altrimenti che la gente e anche loro stanno soffrendo se no non potrò fare alcuna alleanza con i miei figli in questa direzione la seconda considerazione quando è ora tu dimmi quanto mi dai cinque minuti cinque posso me li prendo seconda considerazione Miguel Benassayag che alcuni immagini lo conoscono dice che in ogni territorio anche il più depauperato più devastato nascono sempre nuovi organismi sociali viventi micro piccoli che stanno che stanno digerendo che stanno metabolizzando le fatiche e le sofferenze per trasformarle in risorse prendono problemi e li trasformano in risorse bene qui allora sarò velocissimo io credo che costruire la città del noi significa connettersi con questa sperimentazione da parte di gruppi che intorno al cibo l'energia la pace l'antiviolenza la coesione sociale la vivibilità l'arte la cultura l'educazione la ludicità o guardiamo alla ricchezza che ha questa società e proviamo a connettere tutto questo proviamo a lavorarci però non andiamo allora a piantare piante non tocca a noi buoni operatori sociali andare a a noi tocca andare a raccogliere e a mettere insieme le risorse nascenti di questo e qui vengono certamente i grandi le grandi organizzazioni dei sociali le grandi reti ma viene in particolare secondo me il compito delle istituzioni pubbliche perché sentiamo che in questo momento o le istituzioni ritornano sul territorio e si fanno più prossime alla gente e alla sua sofferenza oppure non basta invocare il terzo settore il volontariato o quant'altro abbiamo bisogno della stiamo invocando le istituzioni questa è la mia convinzione che se non scendono vicino a noi non ce la faremo cioè torniamo all'anteguerra torniamo all'anteguerra a quel punto cosa deve fare l'istituzione cinque cose velocissime le dico velocissime prima è A uscire ed entrare i territori entrare nella pancia della comunità locale B apprezzare le cose che stanno venendo conoscerle annusarle apprezzare quel che i cittadini si stanno inventando e stanno provando a costruire C costringere i cittadini a fermarsi e a ragionare insieme a fare il cantiere del noi a trovare momenti di pensiero insieme ma di un pensiero che non nasce più dalle ideologie dei grandi disegni nasce da quello che stiamo sperimentando partire da un pensiero che è radicato intriso di quel che stiamo facendo nel quotidiano ancora tocca alle istituzioni investire per permettere alle esperienze di avere formazione competenze scambi andare da tutte le parti perché imparino ulteriormente nel fare le cose ultimo punto se hanno dei soldi possono anche metterli a disposizione ma so che questo è molto più complicato del passato e quel che mi fa piacere è che sia stato già detto in altri momenti che non dobbiamo pensare che tutti i problemi li risolviamo se avremo più soldi no se avremo maggiormente il senso della costruzione del noi grazie a voi